Può passar bien, 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 pédazo de, bien, pédazo de, bien, oh neye! E quando il dottore va online, la gente va a dormire, perché il dottore non ha ora, Perché il dottore non ha amici. Perché il dottore è psicolabile. Come? Psicolabile? No. Sì. No. No. Sì no. Sì no. Sì no. Non ha. Ah sì io me lo invento sverdad. Oh bella sve. Devi. Un onore che sei la prima. E adesso senza essere in scuola. E poi alla fine dei conti se dobbiamo far valere quella regola che ho scritto. Sì. Non c'è nulla. Sì. È vero? No perché. Ah non ce l'ha ancora. Però quanto ce l'ha? Si potrebbe dire che sì. Sì sve stiamo facendo un po' di pulizia saccomerda qui. Pulizia saccomerda. Mamma io già scusa ma questa ragazza qui l'adoro. Mamma mia le due ragazze italiane. Scusami due delle tre ragazze italiane. Io questa ragazza qui la adoro. Ciao Saretta. Saretta è veramente c'è una skill che mi ha fatto innamorare proprio. Mi sono innamorato di Saretta. Abbiamo una reaction. Da reaction di Saretta? Sì. Non lo so. Sennò non lo gioca domani si fa. Come state ragazze? Posso proprio dirlo. Come state ragazze? Oddio. Dello shock. Io sono... come si dice? Influenzata. Ho un raffreddore da quelli che proprio... Di quelli. Di quelli che respiro per la bocca già da 72 ore. Hola Gus Gus. Gus. È il nostro Gus. Hola Gus che tal? Ho aperto un nuovo canale dove va a fare dibuji e... Ah sì? Sì, video e cose così. Lo dice a lo mejor che se fa video di dibujo. Jess fa un dibujo, no? C'è che se fa video di dibujo? Sì. Video penso, credo, che sono... Sì, tipo... Beh, sì, che insegnano come lo dibuja, no? Sì. A me mi piace, io... Antes di conoscere i giocatori, la verità è che quasi tutto il mio tempo libero lo gastavo con dibuja. In gli ultimi anni non molto, però ho dibuja molto in mia vita. Sì. Di tutto, realismo, realismo, abstracto, surrealismo, e con tutti i materiali che ti puoi immaginare. E con tutto il surrealismo. Desde cera hasta olio, passando por acuarela. Hasta spaghetti. Pastel. Tutto. Mi sto facendo pulizia per algo che non tengo. Per algo che non existe già. Sì. E un po' meglio. Stai meglio. Per questa cosa gli igodi hanno sempre chiamato negli ultimi due mesi o tre il venerdì ribelle. Certo. Il venerdì ribelle l'abbiamo inventato con Kaylie. Sì. Hace tre mesi passato. Sì. Il bautistato. Ah no, ma no, no, no. Che parliamo in spagnolo? Ah, l'abbiamo, sì. Voi lo ha il gusto, sentite? Vale, vale. Sara, noi il venerdì è battezzato il venerdì ribelle. Perché con Kaylie, tipo due mesi e qualche fa, abbiamo inventato questo venerdì ribelle. Uh, perfetto. Perché ci siamo resi conti che veramente eravate tutti più ribelli. E quindi? Dai, Saretta, quindi che nome ti mettiamo? Che nome ti metti, igodi? Sara. Igo di Sara. Bellissimo. Qualsia che cosa con il suo nome sarà bello, sicuramente. Oi, Sergio. Hola. Chino. Ribelle, ribelle. Che tal, Sergio? È un Sergio tropical. È un Sergio tropical. Ah, hanno uno meno, ellos. Oh, yeah. Sacco di vomito, e ha detto, sì. Dio, 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 dio. È una specie di ave. Vale. Progamer. E chi è? Ti amo, Progamer. Lo conosciamo? Ti amo. Mi piace molto, anche. Lo conosco. Progamer, Black, Goose. Io, non ho sfalto a Sara. Ti prego, mi amor, torna. Donde stas? Torna. Viene, Sergio? Bene. Tra poco, gioco a Spratunghi, l'ha detto. È claro, è Sara, mi immagino, no? Ma Saretta vuol dire Sara, no? Ah, vale. Beh? Black. In the other team, Black. Holy shits. Holy, holy, holy. Perché lo fai? Disperata Saraetta. Oh, mio Dio. Lo sto per accederlo, anch'io. Lo so, eh? Oh, yeah? Sergio, dime. Che ti passa, Calabascia? Che ti passa, calabascia? Yeah, yeah. Oh, oh. Ah, claro. E' che black, eh? Come era? Jet, jet black. Jet black. Non è il jet lag, è il jet black. Però il jet lag è un'altra cosa, devo dire. Lo so. Ah, vale. Eh. Sergio? Mi pone in, come si dice, in expectativa, quando dice doc, e poi c'è che da nel silenzio. Doc, tengo che decirte una cosa. Eh, no, eh, 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 , eh, 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 no comprendo, no comprendo, no comprendo, no comprendo. Pro Camer. Bienvenido a todos, los buffus, también. Vieni. Vieni. Fulmine di Pegasus. Cioè, che? Aspetta che questo sia il nome, perché sarebbe bellissimo. David André González. Hola, David André González. Non lo so, eh, mi senti. Che è Splatfest? Che è Splatfest? E questo è? Cirimoia contro Pera. Abbiamo fatto la Splatfest di noi. Però David lo conosciamo. Non lo so, eh, voglio incendere il mio mobile, perché ti ho detto che il mio mobile è il tuo. Ah, il tuo. Ah, il tuo. Ah, il mio. Si, così lo podemos comprobar. lo so, io sono spagnolo. Vale Il audio non lo abbiamo fatto, era proprio audio Por eso España Il paese De la rots Bueno, pues David, benvenido a nostro canal Por aquí, de España Nosotros vivimos en España También Acordato como il paese De la paella Y paella Que se queda sin nada Pues nada, David A tomar por cubo Suscribite si quieres No, David No te suscribas No te suscribas Que esto es un canale feo No va a conseguir nada Oh, hello Egyptian Empire I'm so, so sorry Arabic will be a language I would really love to talk But It's out of my range Shukra I can say But you're welcome We can speak in any other of the five languages We wrote in the description Shall we answer the best Shukra 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 Già ci è venuto un paio di volte Non ti ricordi? No Mi sa che non ti ricordi Ehm Che quando chiediamo? Quando chiediamo? Si è un privilegiato Escuchami Sergio Dile a tuo padre Che per domingo Abbiamo detto che se si può Comemo juntos Non c'è nessun problema Tu parli con tuo papi El già sape tutto Si Che guai Te sana, te sana, te sana Così vieni qui Sergio Te faccio ascoltare tutto il tempo Ti sana, te sana, te sana Ha un volume Donde è Tutto lo vicino Non ti neanche morire Solo questo Ti dico Vieni in inglese Se qualcuno vuole giocare con me Se qualcuno vuole giocare con lui Non vuole giocare con lui Non vuole giocare con lui Puoi scrivere Ma se vuole giocare Sei davvero benvenuto Il codice è la descrizione Cosa? Cosa? Cosa è catalan e germano Ma non francese Sono così Ma ancora ho inglese Chi è inglese? Sì Il è spettato in inglese Si Dice Cosa è anche chiama Cosa è un inglese Cosa è una lingua Sì 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 No No Sì Cosa è Non sono le più Inoltre Ma È solo La vita Sì 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 La vita Non posso dire Prima Sì Cosa Come si, c'è la terra trema? Ah, tu sei in Francia. Ma parla in tedesco? Ah, il traduttore, no? Is it the translator or you know some words? Thank Christ. And the earth rambles. No, 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 no. The earth shakes. It's better. Shake your boom. The earth shakes because T-son is here. T-son is here and the earth shakes. Ho mangiato un chilo di merda. Veramente, ragazzi italiani, dovete sapere una cosa. Per me, siete le persone più serie che esistono al mondo. Dopo tanti anni di vita. Da una parte all'altra, all'altra ancora. La serietà. Oh, Thomas! Non sei Thomas! E chi è? Sono Thomas? Onde? Non sei Thomas. E dove chiede? Francesco! Cos'hai da ridire? Dimmi. Empire. Ho correttato la seconda volta che mi ha correttato. Grazie, grazie. Oh, benvenuto, fra. Non ci credo! Credici! Non ho scritto nel nostro alfabeto. Sei Nemo! Hola Adri! Ma chi è Francesco di Rienzo? Ma chi sei? Ciao Francesco! Ah, ma è scioccato, scusa! Ok. Avrei detto che è un italiano che gioca a Splatoon. Siamo tanti qua che giochiamo a Splatoon. Tranquillo. Davide... 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 Aprovecha un altro giorno che passi qui. Che si va a dormire. Si hai suscrito però che si va a dormire. Ah, buona notte, Davide. Escuchami. Mañana. Mañana, sicuro. Mañana. 100%. Per la tarda... Siamo sicuro, sicuro, direttamente. Quindi... Qui stiamo e ci speriamo. E ci speriamo. O ci speriamo. Come si dice? Ci speriamo. O ci speriamo. Sperando te. E sperando... E sei il programmer? Sareta non riesce ad entrare. Sareta rifaccio da capo. Aspetta, aspetta. Non ammazzarmi, non ammazzarmi, non ammazzarmi. Non ammazzarmi, non ammazzarmi. No, 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 no. No. Eh... 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 David, sta nella descrizione. David, eh... 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 Il codice che puoi trovare nella nostra descrizione. Sì. Allora, papà italiano e mamma cubana. Eh sì. Allora, suo papà è meridionale sicuro perché... i buon gustai vivono al sud come me. Eh... 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 Lo sapevo. Eh... 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 Sergio... 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 francesco e sia la switch sappi che noi siamo una bella community tre mesi all'attivo facciamo tre mesi dopo domani sì 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 claro nel proiettore sergio mamma da cucarne in quattro sien pulgadas popo popo si chiama come si ci chiede l'amicizia presupponiamo qui sappi che se non so di bere noi sempre siamo sempre contenti due amici benvenuti francesco bella dai hai giocato un bel po' a sfrattore anche patata a un certo punto esce calè non sapevo che significa italiano no ostras calè tiene suerte che è poco s'italiano bene che tal calè patata non so un poche cosa 400 euro non so un poche no ma non sono esageratamente non è una stella di minchia allora c'è sarete what's happen the sun ce ne si è ancora faccioaciones torno troppo e sta perché l'ottorio certo mi robo in quanto ho capito nel passaggio ovio io mi ricco l'ottorio mi strode so che si o tu un curioso un altro کرcio guardare e che si o tu io ci isare i focused che ti traduzco che passa calabascia ah che va a mirar lo che significa l'italiano patata la patata come si chiama qui a ver, voy a buscare una palabra de niños lo digo? la patata tanto si stanno ascoltando ma che significato tiene? Kalev tia, berengena capo di flor come diciamo sempre con Katie non ti ricordi? no, non mi ricordo veramente mi sono scritto instantaneamente grazie grazie io pensavo che la moda delle nubi se iria passando eh? però no non è molto molto sano è molto molto sano è molto molto sano la patata è un antiossidante la papaya te gusta la papaya? ostra ostra black oh Chocladis ok, è bene ok abbiamo lo stesso tempo ma ci stiamo cominciamo per sicuro quindi se sei qui vediamo che ci stanno che ci stanno in 5 minuti in 10 minuti ok vediamo non ci stanno non ci stanno non ci stanno sei bugata sei fermata sei bloccata non so bugata è che come dice a ver se lo arreglo pronto suona come se fosse una cosa seria me da miedo ah ma capisci proprio bene l'espagnolo Francesco perché quindi sei arrivato alla live idonea per te no? se capisci tu è perfetto proprio no Adrian il chiste del patasio è buono il patasio è buono è buono mi ha chiesto grazie a mi che quasi nessun chiste mi fa grazie a me ha chiesto del chiste che è una merda pura proprio così lo dico sin filtro ok Choco see you soon oh Choco a big hug for you a me quasi mi esplota blestre in la cara ah vale ok la vendita mi ha comprata una nuova a scala beh questo del pack io non me lo trovo molto in serio perché non è una cosa seria grave di ospitalizzare ehi ah DIGA DUGA un nuovo video ma ho una nuova auto che fa GUS 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 dove è andato? GUS non lo ha pronunciato casi Alexito uhuuu Donde? ah ah ahi sta come mi piace questo nome e hai un altro e ti sa e ti sa e ti sa Splatfest win qual'altro hai? hai altro no? del che? hai un altro delle tre fiere che altro? sento le cose di qui dica DUCA già guarda hai fatto una cosa che è andato ovunque la scena lo sai? ma non è andato certo oh eh DUCA solo una cosa ti dico DUCA ma che cazzo è sto lemone? no no dai son bambini devi capirlo minchia io voglio la serietà io sto chiedendo qui la serietà di un clan che esiste da troppi anni hai capito? e questi non sanno neanche pulirsi il naso da soli no? tipo ha uscita l'espansione 8 boh sono 8 e diventerà 8 fin quando non esce l'espansione quando uscirà l'espansione non avrà neanche più la switch semmai perché ehi Francesco oh Franci domani domani se ci sei volentieri si si se ci sei proprio da pomeriggio proprio sicuro che giochiamo praticamente e niente grazie per averci trovato e ripeto è bello che capisci tutto bella vedrai che alla fine dopo un paio di mesi non sarai più l'unico vogliamo solo solo gente intelligente adesso scremiamo le teste le teste che non hanno cerebro stai parlare una lingua? si stai a casa tua va stai a parlare due? ci servi tre? sei simpatico quattro? benvenuto cinque Jessica mi fa vivere mi fa vivere voglio imparare una nuova lingua dai così c'è un livello dopo Jessica per tutto lo youtuber io tengo un'alma che nadie tiene molti lingua jazz potete intentare copiarmi tutto anche nel ritmo tropical potete cantare è mia ausenza vale? potete essere lo che vi dà la gana ma jazz non si tocca e cinque idioma a casa l'arma con la perk piena chicos Frank 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 io l'adoro Frank è troppo simpatico sei Frank il la de dormir ciao Francesco è un ritmo tropical ice lion 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 ha detto ciò e stava qua era qua? no no è solo venuto a salutare ciao ice si è un po' tardino si vogliamo prendere Frank mi banearon mi banearon state ancora a giocare no no hola pao almeno uno pao pao che tal pao come va? almeno uno ti sanno ti sanno sei un po' tardino anche io ti lovo sempre buonanotte ice anche io ti lovo oh buonanotte ice ci vediamo domani eh ci vediamo ci vediamo ci vediamo il occhi il occhi non ho il pieno per comprare un altro un altro quindi potresti mi 5 10 in infatti è più la persona che si un altro che ho cambiato solo per te quindi ho cambiato ho cambiato ho cambiato solo per te posso prendere questa ok però come sono molto simpatico come si dice? simpatico è un gioco comunque oggi belle partite comunque domani regista certo ice domani ci siamo tranquillo ah però è vero Sergio? dove? come? claro perché il secaiola ah il splatoon lecce bene ti auguro che exista però per l'altro credo che è un rollo quando non dipende tanto odio che ha i vestiti preferiti ne vogliamo parlare buon kai Lo join perché sono stanco e soprattutto perché faccio scherzi, fai modelli della portatile. Wow, i neologismi che si stanno formando per i giochi, no? Lo join, è bello. No, join, giusto. Gentile. Ma non viene da join? Oh, lockhead. Lockhead? Lockhead. Ma quello vero? Ma quello vero, sì. Ciao. Sto dormendo, ho sonno. Minchè chi scrive? Dai, tranquillo. Domani stream sicuro è pomeriggio, ragazzi. No, no, Ice. Non so, mi stavo, non so, volevo magari accenderla, però poi alla fine sono rimasta qua. Senza accenderla. No, veramente, Ice, ti dico, più che altro ho acceso solo per far vedere la supremazia a mille coglioni che copiano, 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 copiano e basta. Inizio a rendere le palle piene, raga. Tutti quanti seguitemi o voglio di scoppiare, capitemi. Non mi basta il mal di stomaco, c'è che mi danno il vomito. Allora. Tranquillo. Che dice, Adrian? Quando non dipende di ti, non dipende del wifi del vecino. A che ora? Orario italiano hai anche orario spagnolo, perché sì. A che ora, boh, saranno, sicuramente saranno quattro e mezza. Come sapere? Domani, sì. Ancora streamiamo? Non prima delle quattro. No, non prima delle quattro, raga. Però ascoltami. Chi è che chiede? Frank, ma tu ci sei su Discord? Sì, è vero. Perché tante volte gioco e avviso solo gli amici di... Oddio, è questo qui chi è? Oh, è rototese. E avviso solo gli amici di... Di Discord. Perdona, eh, se sono... Hello Splatoon 2. Thank you for the news. Yeah, news reporter, in fact. Yeah, really, really, really... Good news. Eh, ragazzi, andiamo indietro, vai, così facciamo privata. Lo conosci? No. Splatoon 2. I sub to your channel, because if you enter with this news... What? Privata? No. Ancora uno, l'ultima, l'ultima. Ok, ok, last one, last one. Ma non sapevo che c'era oggi la... Ah, scusate la mia geografia. La... Ti ho splattato in un modo incredibile, ok? Però vai a vedertela, ti ho splattato di brutto. Ciao, Roberto, che ti parla così e dice... Voglio... Ti ho splattato da far paura. E ora andrò per... Roberto Estrada. Hello. Welcome. Hola. Hola. Que tal? Ja, 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 ja. News reporter, do you usually... Are you usually well informed about Splatoon in this... Is this why you have this name? No, because he has a video of cat and dog. I hope not. No, eh? I'm gonna check. Splatoon. I'm gonna check. Well, ti ho... You do, bro. Tres. I am a YouTubero. He is our new reporter. Yep. Oh, que guay eso no, pero eso no? Yep. I do. And do you prefer to speak in English or in Spanish? We can... It's more comfortable in Spanish, but we can talk whatever you want. Na, 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 na. You got it, Black is out, really? He went away? You got it, Black is out, really? No, so. That's what T-San is saying. I love Black. I speak both. We love people speak multilinguages. Grande, Alexito. Bien, bien, bien hecho. Así se hace. Un poquito de atrás. Y seguiendo, bye. Splatoon, 2 News Reporter. You also speak Spanish, Dan. Si. Que guay. Chicos, pues vamos a hablar en español, no? Más fácil. No. No. Ok, let's talk in English, Dan. I can also talk in German if you want. I'm missing it. Where are my German people here? Ah, they're free to die. Laura, where is my Laura? So, guys, if you want to play with me, add me, please. And the code was in the description of the video. I don't want you to subscribe to me in my channel because I'm jealous. And this is my channel, not your, no? No? No. No tenéis que subscribirme porque esto es mi canal. Soy geloso. Solo mío. Uy. Esto es mío. No, mira, esto es mío. Solo mío. Egoista. Rattino mio che sei sulla collina. Buonasera. Claro che sì. Ti prego, ci puoi essere tu assieme al doc? No. Oh, ma non importunare la mia moglie. Strunz. Allora si strunz. Eh? I strunz, eh? Cos'è? Io non ti piaccio più? Kids, game, mi rosa, gente, che è il YouTube, non si uno? Prima veniva, ti amo solo a te, ti voglio bene. Doc, 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 docchino, docchino. Adesso. ti prego Jesse ci devi essere anche tu perché quel mariolo mi tratta a merda oh Ratti dobbiamo attaccare un po' o Leone no sto scherzando back 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 please back di Anzacato di Youtube Kid ma le scorreggie sono ammesse in questo canale non è vero ragazzi se avete sentito un rumore tipo una scorreggia ero io tu vai benissimo tu vai benissimo non ti preoccupare thank you so much we have a good capture cartridge I think thank you Roberto c'è Doc ironico nei confronti di Doc ma sei nato in Spagna o in Italia Doc ironico nei confronti sono nato in Italia si si è proprio italiano lui sono un italiano Jay sarà per una volta per un'altra volta apri un'altra oh mio dio gli occhi non so più leggere black kiss chi è black I love you Alexito ti ho visto jugar Alexito Alexito Ale 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 Alexito Frank non c'è 100% ma neanche un 0,01 100% e io sono 100% tedesca che ne aveva detto handicap match come se dite temblat temblat ah si esatto Gabriele eri tu non sapevo che era qualcuno italiano ma non ricordavo esattamente è bellissimo sapere di avere 16 persone online si abbiamo 16 persone online e solo 4 stanno giocando si e se stanno se chiamiamo community la gente tiene che spiegarmi lo che è una community è in serio è buonissimo vente vente Ale tranquillo how long is the video going to be I don't know one hour maybe we play for one hour more no no much we don't know where you are here it's almost well it's half past almost midnight ok so yeah not too too long no but yeah a bit still nevertheless we stream almost every day really so if it's too short today for you you can recome tomorrow when when that's è un canale di youtuber di merda è un canale di merda questo ma cosa vuol dire che non puoi mettere più ai tre secondi al zero sarei andato in centro perdonatemi ragazzi chi è lo youtubero chi è lo youtubero minchia black guarda che spettacolo che è roberto where you go you go stavo spommando grande ma i nemici non posso lo vederlo ma le doc puoi le doi un like si frank si si per quello l'ho detto perchè da solito quello che pensa la gente bye bye roberto bye roberto a big hug hope to see you soon maybe more special sarete a doc metti magazzino con torre mobile la mia faccia sopra un magazzino un magazzino adesso la tutoria mi conosce bene la mando a casa senza fare niente hey the fox the fox 5 5 5 troppe collane non riesco a spogliarmi vestito rosa pare di essere una barbie fox tranquillo 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 tomas gana para nosotros dica duca ho capito che glitch vuoi fare sarà 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 vuoi fare 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 ma 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 che tu solo ma tu hai giocato conmigo con il mio tambien si che drammatico questo eh bueno diciamo che io della maniera con la che juego con mi switch e mi usuario farei che il gioco di Splatoon mi dure un monton un monton e lo potrei disfrutare un monton di mesi e anni lo senti come si perché vedi un po' d'anni fa vedevo mamma e papà dentro la scatola black no 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 pow oddio eh mira io ti io chiedo salutarte vale però la prima parte non puoi do non puoi do lerla ma mi sale è davvero difficile allora naegi loquendo va dö do oh mio dio per sbaglio vedi un po' di anni fa vedevo mamma e papà e non mi suona ola intonso naegi spagnolo, vero? si può parlare? perfetto perfetto folks tranquillo tu lo sabes noi qui stiamo oggi, il giorno, il giorno passato ha quasi 90 giorni che stiamo qui 90 giorni il domingo domingo special 90 giorni 3 mesi di canale ragazzi, per favore sperate un secondo perché ho che borrare persone è una cosa che mi piace un montone perché è terminato il spazio per i nuovi amici quindi ho che borrare un paio di persone e quindi cominciamo con la musica un po' Igo D lei può stare bye bye ademais tiene cara di malo tenía che dicirlo wow chicos abbiamo così tanta gente non sei più felice che triste tengo che decirlo giusto, io sono felice di borrarlo todos borrare il mondo hashtag oh no perché mi sono messo offline dice Gabriele si, Foxy hai dimmi te l'amico ai Gabriele, scusami Frank mi sono 300 si, si, si claro ancora qualche altra persona non supone nessun limite mira, mira ancora 2 o 3 però qui si questo è chi è? lo scome di nuovo eh papà medio nuovo 4 di che non juega ya entonces non juega a nostro ritmo ya sta wow questo è molto me da miedo quina no, non puoi che questo chico che tiene 2 o'occhi oye duca te ne fai una fuori con me dai la mia faccia sopra un magazzino un magazzino mamma che ansia neanche nell'interrogazione di geografia ma cosa succede a Frank? Frank è incinta Frank? Frank è incinta Frank? perché hai reso un buon equipo me lo traduci vale Foxy e entonces Fox no Foxy 4 Foxy Fox Foxau hola Duckie squad ma Duckie hello Duckie sono muy divertidos e yo che che guapa 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 chi è nacito tu sub che mas promo te ha ello invitando gente ninguno nadie mi ha aiutato a hacer nada entiende parece qui sono tutti buoni ma nadie mi ha aiutato quindi mi cara da culo e c'è tutto hola che che è la mia faccia sopra ma da zino no Frank tu sarai un prossimo igodi eh si ah ora che lo dice Foxy che non è Fox nos aiutò perché che è sì che non aiuta un po' che Foxy Foxy che dopo dice che se fu non so con un altro e va a perdere con un altro tengo una leve sospecha che fantastic tengo una leve sospecha ah è lui come va esa gorrita di rana eh guarda la gorra di lana è gorra di lana è gorra di rana però è gorra di rana e sta qui anche tu alter ego Tomas voglio fare la nuova dopo hai Foxy e Fox io lo sentivo che c'era Foxy lo sentivo che c'era Foxy perché tu l'hai detto Foxy lo sappia che c'era Foxy per qui oh Sara quando fai 18 anni vieni sposami se giochi così fino a 18 anni preparati sono vecchio brutto ma giocheremo tutti i giorni insieme ti puoi fare una vita oye perché non abbiamo caído antes si chiamano Egi Loquendo come abbiamo caído antes ma io tu piensa che io mentre gioco posso mirare un nome perché la verità quando ho leggi Loquendo direttamente pensavo a Foxy e ai suoi video è stato più divertito ma mi sa che non è lui no no sì sì te lo dico perché mira lo dico io perché per questo lo dico è il nome che hai lì Ratti ti vedono Black ah vedi Franca aveva paura che li cancellavi perché era offline no ma quelli offline sappiamo che sono quelli consenciuti si dice così coscienti sono quelli coscienti che sanno che si deve spegnere la Switch bene e quindi questi non li eliminiamo già di partenza di partenza e vediamo che ha giocato a 20 ore di Splatoon può essere o non ti abbiamo in testa diciamo ma con questa persona l'abbiamo mai visto c'è Sakina Sakina c'è dove non lo so no hanno detto Saki Saki? no no oh Gabriele non fare finti allarmi Gabriele dica tu che che io ti pregunto come stas ma non ho letto tanto non c'è anche più che no Fox stavamo parlando con Foxy eh no contigo no contigo un gorro di rana che che ria sempre matarlo sarete quando giocherò su tv e con una buona connessione vedremo che è più forte eh Frank però non posso sposarti eh non è che adesso sei diventato geloso perché ho detto a Sara ti sposo se diciott'anni giochi così eh abiti pazienza new room li manca nuova nuova room chicos ahhh io mi guardo il mesino eh eh ahhh ora ti ho sentito il tio maco ai chicos mille chi niente e noventa no mi ho trovi dito non mi ricordo la pasta mille ai 28 05 lo so no quella è la vecchia allora 1 5 9 0 si corretto cazzo ma sta ragazza è velocissima anche velocissima e nel frattempo 20 persone online perché le abbiamo tradito a Frank 20 mamma mia e giochiamone anche in 8 siamo si no ma c'è molta gente che sta già solo non ha la switch accesa eh Alexito black è wow adesso se lo ruido di abuela jazz quando si sopra la nariz pensavo che saldría silenzioso assisto a una realista chicos boom e come sempre chicos perdonai smarratti è l'ultima aspetta ti tocca figliolo ti tocca aspettare extrañas a foxy extrañas cosa vuol dire se ti manca foxy no che dici ora che tengo un nuovo amico non può non può non può non può non può ora che tengo un atti come amico da igual di foxy che l'astma fox scusami fox però se ti usas il discord si sempre nel discord llega la notificazione di quando empieza un directo sempre entonces se lo tiene ah ma no ma foxy lo se amiguito allora fox asce asce differenza allora sergio 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 si è dormito sergio vale basta poco te ha vista duca duca dica duca vale volvi pobre pedro madre mia però fox tu tambien se fox se te suscribe al al server del discord sempre va a saber quando tenemos directo si si bien bien scotch e tu que tal no te preocupes fox nosotras tambien nos confundimos con vosotros dos nosotros bien bueno yo estoy super resfriada como se puede oir no no chicos uno menos uno menos y tu que tal no se puede jugar somos almeno vamos hello japanese friend goodbye my lover hello hello goodbye my friend you will be the one you will be the one for me eh japan did you listen our song for you have you heard the song no 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 uh oh di oh hello 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 um toskimus want toskimus wait wait japan friend wait please and i will translate don't worry be happy ok super don't worry be happy super 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 na 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 allora il nostro amico ci dice come stai oh grazie e andiamo finito finito sicuro che non siamo noi dov'è il giapponese non trovo il giapponese dice pedro che il traduce se chieres mio oh madre mia ho scritto monton tutto bene grazie claro lo kendo naeghi lo sospechato desde el principio perché quando è entrato tu perfil ho scritto star e ho detto anda come foxy già antes di che empezare a parlare quasi di medico medico por lo del dedo pero todavía lo de la lo de la como se dice lesione deportiva pedro no me no me no me digas tío no me joda no iba a decir jorobes pero bueno lo puedo dire yo porque se acabó el peggy ya fan culo al peggy mañana pasate que te queremos felicitar pues y también te saludamos a tus amigos jeth jeth sei tu quella che sei tu la youtuber eh ma ti hanno detto eh sei tu la youtuber jeth io non sono youtuber vado carp un un second yo no ero pronta no no guardato neanche ultimi due allora fratello maggiore abri di mi posso entrare certo che si ho mirato los últimos dos así que yo me ofrezco voluntaria y otro más random porque lo siento no mirado los últimos dos no rati no che è appena stato no ma cosa succede è uscita due volte l'attima perché mi sono fermata tipo partite qual è il codice 1 5 9 0 codice si ok se non riesci ad entrare avvisami che faccio una stanza nuova ok già invio questo alexito decía che va a jugare in serio dale dale si antes jugare se broma cosa me da miedo vaya pedro che mal vedo che tutti rappresentano una forma di gratitudine nei tuoi confronti premendo ripetutamente il punzante z r franco ha detto cosa lo dices der ah si si che che dices in serio che che pedro dice che si empeora tendranno che fare un montón di operazioni e eso oye pues esperemos che se haga lo me for ok che mal io pensava che una tonteria che si va una semana no ratti non nessuno ti cerca di far fuori era solo che non so mi sa che ho fatto le stesse secondi di tasto per dire vado a vedere un po qua che c'era qua vamos a vedere l'exito che cosa en serio vamos 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 ultima partida de pau venga pues passate da bien io non posso parlare questo ruido che fa gesto la nariz eh es che sto vengo un par di segundi e poi non posso respirare vale che bien respiro doc per quando una reaction eh di dia mañana 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 por la tarde puede ser che dia de reaction a tomar la room esta llena quindi l'ho inserito ho fatto domanda per kirby ma non è approvato quindi l'ho inserito vogliamo vedere cosa mi da con l'inglese perché io non lo capisco te hai respuesto naeghi foxy como quieras perché quando ho entrato io quando entra alguien entro nel canale di esa persona e nada e visto enseguida lo de zar e dico anda mira como foxy pensado io antes di dieras nada por decir quando hai dicho hola a ver io so por la razón oh si sei felice wow ragazzi ma dopo dopo un anno viene a giocare con noi eccola ma chi è ragazzi sono tutte donne giapponesi che andano a giocare con noi no non lo so sì sì the fox de verda de verda oh ci sassanetta yeah oh yes just regenerals are bon in mescola cosa dire si proprio di recente nintendo ha rimbalzato nella scuola mettendo l'american 2 che ha la grammatica più simile lmno pqrs tedesco ah è in italiano che lo scrive chiaro fratello no sì non lo so ma che scuola dice che ha tipo un retino no che le ha dato male la sua scuola perché li hanno non mi ha capito la seconda parte l'hai toccato subito hello 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 mary rose emmy rose hello welcome bienvenida el hombre dijo el hombre doc el hombre dijo que no éramos amigos y que no le traía gente malo es que vosotros os queréis muy rápido todo espera 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 él ha dicho se hay alguno de ellos bellos no new room chicos nueva room doc puedo reclutar a gente que lo dice cal claro tú estás aquí por esto por mala suerte de todo tú eres el único que puede quitarte el nombre estar siempre a tu posto entonces tú eres igodi carta blanca se llama igodi carta en españa te llamarías igodi azúcar perché en españa quando eres de azúcar almeno en el colegio ese es de azúcar no 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 te hacía daño en una pierna pues hoy eres de azúcar yo soy siempre de azúcar pero de fox555 tú eres o sea vivís en españa perdona antes de que te vayas claro 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 Caleb yo pensaba no sé por qué pensaba en suena perica y Amy Rose Victorin oh Victorin perdona no te he visto Victorin perdona me ah tu clon es competitivo vai la siguiente tanto siempre esta en esta luna estamos y en esta 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 però non c'è l'amico giapponese no vero no non è entrato nel lui detto ma dili che è la prossima ciclosi ciclos non è colpa nostra ratti ratti beh, a non s'è The Fox, a non s'è che te lo hayas planificato molto bene, acabi di dire che ci sono 5 minuti ok quindi credo solo in Europa magari Marte ha il stesso tempo ok giusto è il mio modo favorito, la prossima è il stesso modo ok che è? è normale, è tutto è anche il mio, devo dire questo è per tu Doc, ti faccio una reazione, dice Alexito dai se le taffa la ultima poi stacca ostras miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, eso è Fox tutti i giorni, stream che per loro è uno stream per me è giocare per il finale, no? sì, per loro è giocare, mi immagino sì, no ma per me è più stream perché io ora non sto giocare tu stai guardando stream, chiaro sì è un segno espertatore Naeghi, puoi riformularlo? io non lo entendo che? quanto faremo ancora? perché Victorino pregunta se faccio amistosa per chi si è venuto a fuori non lo sai è un minuto? sì un partitino amistosa, potre farlo Perché ancora devo fare un partito qui In questa room Puoi incendermi la via Ma io credo che Puoi incendermi Un po' la merda Come facciamo? Dobbiamo far aggiungere a tutti la tua switch Vittorio non lo so Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Io che sto super pachucha Ma no, ma che non ti repito Perché come... Sì, ho pocchi di loro Dei che stanno qui ora Perché se fossero, non so I godi quasi tutti Taliesi non avrei problema Però io credo che è una oleata Che ho toccato ora stessa E vedrai che in 5 minuti Il ritmo di stream Vuelve a essere diverso E io lo conosco O a lo mejor O a lo mejor O a lo mejor Ellos Hacen bien la cosa No, ma... Tengo il lag No, ma... No, ma... No, ma... Buona festa Adios Alexito, hai leído lo che ha detto? No, no, no... In reaction Estamos viendo A un jugador di Splatoon Che è un manco Che... 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 un posto qui per giocare e ricorda una delle primi cose che ti ho detto quando ho arrivato al canale e saprassi a dove sei me lo voglio pensare vale? e così avremo a una conclusione mmmm Fox dico bene? ho fatto così dico dico tu sai dove è? dico dove? no, al posto della Spagna dove ho detto tutti di qui venivano in questo ah sì? tu sei del Algetiras? io non mi ricordo perché sono io lo youtubero adios Naegui pegi 18 hace 2 minuti coi coi vale vale eh 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 vale vale ciao Saretta ma Saretta se notava? ciao bella sì l'ho salutata prima ah vale io non buonanotte Saretta che coi non passa? eh 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 ma duca anche? dica duca cosa sei andato? no no mi sa che salutava Saretta solo sì sì c'è duca l'ho visto no, perché poi della Tiscriber no te educa confusione ah ya lo se Pedro pero porque un dia flipamos porque todo el mundo che arrivava al stream era del Algeciras però tipo te hablo de un porcentaje del igual del 70% non sei che punto teniamos por ahi quando potremmos ver vuestras preciosas caras? eh mira Victorin io la cara non la pongo per molti motivazioni e mira se arrivo a lo a lo a lo muchos subscriptori explicaré perché non pongo la cara e tiene un sentido créeme muy 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 bueno e reales io pongo mi energia mi modo di organizare la poca cosa che puoi organizare mi tempo libre mi... todo lo che quereis sì questo lo pongo col corazon no pero nosotros nunca hemos prometido che allora dico che a lo 500 poni a la cama puede ser ah però io non lo dico porque como entiende pongo la cama enfocando la pared no puede ser che pongo la cama e mi hago ver solo durante la reacción por ejemplo questo sei un perro si o no? nooo oh mamma wow oh black boom ah farei mai un face reveal? guarda a voi italiani vi dico direttamente che con italiani può essere può essere che gli italiani qualcuno di voi vedrà la mia faccia sono proprio chiedendo la stessa cosa stavano che oddio sì sì Victorino mira tiene che gustare lo che faccio no nada meno sì tendria che essere independiente la decisione è come dire ora voglio vedere la cara di tutti gli programatori di Splatoon perché Splatoon mi divirte quindi voglio vedere tutti di San Antonio di San Antonio di San Antonio buonanotte 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 paura stamagnana boom e quindi 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 allora Thomas perchè Rotti dice questo? cosa dice? io già la conosco l'80% la foggia e perchè quando le ho mandato la foto la foto è vero sono riflesso uno youtuber sono youtuber oh Adrian un abbraccio buonanotte disfruta del descanso sicuro 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 nos vemos magnana sì e se dormimos Adrian non te preoccupes che dormimos chiaro che sì a una media hora e despues adesso vamo a dormire che? minchia japan friend oh oh però vale io vado a cercarti cosa vuol dire ma mi sa che quello non vuol dire niente che ho una faccia tipo sconvolta perchè non ho più cagata ve lo li ha risposto ucch fai immerso? l'ho messo dentro oddio ragazzi ve lo dico in italiano cosa mi hanno una traduzione cosa è uscito tanto si è uscito oh no bazookarp 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 si ma lì il bazookarp non ti preoccupare che hai fatto bene eccolo 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 questo è mio quindi in una traduzione uscita una frase l'ho messo dentro boh io quasi quasi le rispondo questa notte lo farò anch'io l'italiano non sono stupido non sono iiii Vittorini abbiamo planificato fare cose abbastanza diversi e come abbiamo detto che abbiamo pensato fare come una specie di o no se vuoi dire horario o no no horario programma si mira ora pondremo un programma creo eh con molta calma perché sois demasiados cominciate a essere demasiados e ripeto solo hanno passato tre mesi e io ora mismo già tengo che planificarmi algo perché altrimenti è meglio che cerro il canale e e già sta perché per essere i miei amici e poi non poter organizare bene il gioco dei miei amici è meglio che cerro ora che siamo pochi anche Fran chiede in che senso noi italiani potremmo vedere la tua faccia? eh sì ragà cioè nel senso buono l'italiano è sempre più avvantaggiato questo è poco ma sicuro eh io sono un nazional patriota anche se sono all'estero ripeto la serietà degli italiani si trovasse in quasi tutto il mondo forse saremo anche meglio la serietà eh dico sì 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 Pedro lo sabemos eh già lo sabiam che Victorin era di Barcelona dico che è una cosa che stiamo cerca chi? Victorin ti acuerdas? Victorin e Sergi sì Sergio Sergio sì 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 ti hai visto la cara aspetta eh tieni già mio caro amico non è una novità dei giapponesi minchia ragazzi ma guardate come ha scritto c'è una casa io vedo una casa un cagnolino a pecora eh un un albero che brucia in tutte le lettere che ha scritto oh no Jay devi andare più veloce col pennello è difficile per la squadra blu affrontare quasi tutte le distanze devo andare più veloce brava no mamma brava l'ho visto la sotto l'ho visto dopo eh Alexito oh 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 sono molto 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 vicini giuuu cosa? era cosa è successo? mancino una ecce pocos kiu-metros uno separa la toque e a via di una minaccia e sergio dice hola sigo aquí ja 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 contrasenna haces una nueva Ale nueva 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 haza tu è stata la nueva nueva new 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 Ah, Alexito, in serio? Il che? Alexito è da Gran Canaria, come... Sì, come 7 Ah, no, abbiamo la mica Hola Il codice, il codice, qualcuno se ricorda? 5, 5, 5, 5 Ah, vale, non facciamo 9 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 Uno più, uno più, uno più Uno più Thomas, uno più Thomas uno mas Thomas uno mas Thomas Duca e Ratti stanno vivendo su storia boom torre mobile torre mobile allora così con noi oh Tisan one big gag see you later see you tomorrow I don't know when you can when you wanna talk to me in Discord you can without problem yes Tisan also from me hope to see you soon and have a really good oh my god the hours have a really good day I say to you 443 persone come puoi essere 444 bueno ok alexito visita barcelona por los veranos wow wow io voglio un no io tutto l'anno dimmelo tutto l'anno tutto l'anno io no però per questo lo dite disapparesco del mappo un tempo e os moltiplicais come lo gremlins ti gusta lo gremlins scotch che loco si ti gusta lo gremlins io adoro lo gremlins ho usato proprio proprio lo mismo si mira io sempre dico lo mismo che si moltiplicano come lo gremlins si si io dico sempre a un italiano nunca tiene che darle da comer despues della medianoche o a ser nel bagno perché si moltiplicano come lo gremlins come va no se lo stanno dicendo a Tizan creo si si Tizan Tizan ya sono muscle like che spettadores mira guarda Sergio prima avevamo 26 espectadores online 26 io non lo se che ha passato credo che i bambini hanno tenuto mal sueño cosa così si 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 quantos la che abbiamo al final demasiados pocos quantos 18 personas realmente de los que han estado presentes se han acordato o han decidido que les ha gustado ma tu lo saben tu lo sabes la cantidad de like que me interessa me tener no a mi yo es que ya he entendido que no es no es una herramienta útil que te da youtube para tener es porque hay gente que ni sabe que existen quien pide like ya sabe que no aguanta el ritmo de youtube entonces necesita del like yo ayer he hecho una live solo sin hacer nada de especial di un like tenía 40 like quante le he hecho en una hora y media entonces te digo me lo dan no me lo dan da igual a me interesa quanta persona me miran entiende están aquí a jugar con nosotros esto me interesa porque yo aquí no gano un euro y todo lo que hemos ganado en subscripción lo hemos devuelto a la comunidad de Vientastic entonces yo no quiero dinero porque si lo quiero lo hago yo como siempre estáis con el agua y continuamos así y cuando va a ser verano vais a flipar porque ahí el ritmo aumenta exponencialmente en tres meses habíamos hecho esto y lo habíamos hecho todos juntos no es que lo he hecho yo yo soy uno de 400 y pico no es que valgo más de vosotros la diferencia entre mí y vosotros es que yo tengo una capturadora encendida y vosotros ahora no entonces anzi muchos de vosotros son mejor que yo en muchísimas cosas entonces aquí no estamos ni para jodicar ni ni por yo sé que mi vida es fantástica entonces si en youtube no tengo visualizadores me suda así lo digo ¿cuántas personas están jugando ahora? no sé pues en la rume entera ¿qué? no 10 no te entiendo ¿cuántas personas están jugando ahora? 10 10 10 si y 6 personas afuera que no juegan si Frank Frank hay una cosa guarda che mi sa che ogni italiano che entrato di qua e anche noi prima avevamo già visto questo gli spagnoli spagnoli ridono con la Jota con la J una cosa cosa che non ha senso sembri che si stanno offegando però va bene lo dobbiamo accettare anche questo sono sempre stato curioso di no no a me interesa no a me interesa perché ti dico che la cara di fantastic è come la mia ti tiene che interessar la forza che tiene no la cara dico dopo che sai la cara che ha fantastic che differenza hai doc che sappia che la mano non si mi caído ancora per questo dislike oye oye però non dimenticare le cose non dimenticare nulla prima non spero che se ho constipato solo per stare in forma nei streams io e io fuori ok doc devo che salire volerlo lo rapido che puoi dici tomas vale vale io entonce ah no potete parlare un po in italiano osea osea che che pasa questo 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 perché adesso vi in quanto numero purtroppo si vi vincono i spagnoli allora mi sorpassano io e joy solo che io ho vinto e joy ha perso ok dillo per favore in inglese 2 4 6 8 giochiamo tutti oh si perché ha 29 anni però ha una voce giovane eh no chi sei ogni persona succede un'altra cosa chi sei ido basta handicap match ah no spera perdona no el sei doantes perdona sergio sergio se ha caído tranquilo chicos vai grazie 8 8 8 partidas hai tentato untero sergio en serio e ora se cae ah no era alexito quien se le ha caído vale se le ha caído alexito y sergio no puede entrar o él también hay vale hay demasiado exacto handicap match mamma mia pano de capa marcha guys we do the last ten minute of streaming chicos aremo l'ultimo diez minuto del stream di sergio è la connessione che te che non ti aiutati wow latti japan friend lovely i'm happy to be splatted by you da que lato ha salmurran somos muchos no aún para salmurran o que no no scusa ma tu domani a che hora vuoi ok ok allora 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 bye 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 yo que mi stavo chiedendo dove era bone 42 42 welcome 42 hi how are you how are you i miss you 42 i miss you scotch explica japan friend just love for you a me no se no me disgusta esta mapa oh se puede subir aquí no así tengo que descubrirlo come se divierte come se divierte yo creo que cuando cantas se juega mejor claro si gracias pedo ya lo sabemos sabes es un poco un rollo sinceramente y además sabes que es super random porque puede ser vale que a 10 personas o sea imagínate 50 personas a 20 no les avisa y 30 si al día siguiente a otros 20 diferentes no les avisa al resto si es un poco aleatorio pero todo lo que tiene youtube game les avisa te avisa dos veces con youtube game por eso lo escribimos en discord sabes por eso lo solemos anunciar ahí y si estás inscrito en twitch y tienes activado te manda un email todo pero puntuale no pero solo cuando solo cuando solo cuando solo cuando haces en twitch también a me mancano si si claro jolín es que yo tampoco lo entiendo si que es verdad que algún que otro le ha hecho esperar alguna vez pero nunca tanto tanto pero estaba un volumen así de alto o que ha pasado wow si estoy segura de que lo hace la posta si claro porque no quiere que la persona van veloz ah no dice youtube según tus búsquedas y tus visualizaciones youtube escoge de los canales que tienes suscrito y activada la campanita pues te envía el video de la pero ellos hacen una selección claro no yo nunca he pensado que era un error real no creo que sean tan profesionales no te sé duca y sergi no sergi andando fuori duca sergi che raro addio boh quindi facciamo un altro bazookarp oh rati per non aver giocato in tempo non è male cosa 16 splat per non aver giocato in tanto tempo ehi no dov'è duca no niente duca qua e quindi alexito ah ciao ok gabriele a presto grazie per giocare come sempre oh alexito perdona però ho la lei dell'ultimo di stato che c'è ducano ducano duca buonatete duca buo no aremo nuova 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 guys guys we are perfect to play all together oh vordichu i love the thing you did with the moon i also do this before did this before Noi per intuizione lo abbiamo deducito Per come abbiamo credito Entendere YouTube Mi chiamo Scorch, mi ha fatto un favore Che cosa? Si puoi scrivere Il che? Avic, ti vai? Vale? Vale Ma se blocca Credo che YouTube e i media di oggi non l'ha guantato bene insieme Un gordo idiota colpea E se me la credo io L'ho visto Oh, hello Japanese Ok Guys I have the chat Ma non c'è nessuno che viene? Andai Emanuele Non ce l'abbiamo ancora Si no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo De possibilità Non le vorrei dire qualcosa a Pedro? Que le hai detto a Pedro? E se traduci qualcosa che mi sembra bloccato? No Nada Ya sta eh, Pedro Sabes che passa? Che se non si ha bloccato un momento il portatil Ti ti volevo chiedere Per quello che ti avessi offrecito Antes Oh, grazie Traduzido, traduzido Grazie Grazie Igualmente Grazie Come mai non c'è la possibilità di donare? Chiede Frank C'è la possibilità di donare Vi ho detto Ah ok, scusami Su Streamlab C'è il link Ma eh Non me lo interessano Devi sapere questo Cosa succede tío? Ma perché non c'è nessuno? Ma perché non c'è nessuno? Qui dice Doc Non mi sale scolettato la lista di amici Ti ha detto uno A ver se è vero Ti è passato qualcosa di raro? Forse di due Si anche Bone lo dice Ti fa vedere come offline Mi fa vedere come offline? Si Ti ha detto Bone È vero Vai No la eh La super chat Servono 1200 utenti Chiudi la live Basta Dicevo tramite super chat E ci manca un pochino no? Ma scusa ma È online? Ma quanto cazzo sono Oddio l'amico Sorry Sorry Japan Japan friends Sorry Really sorry 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 Oh my god 20 minutes ago Sorry 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 Wow Doc reinizia la switch Vale A chi si parla del copyright OK Eeeh Ehh Eisation Hallo Ciao Senti Zeta snip удоб accendere sicuro hai detto dieci minuti sono stati dieci minuti ok basta 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 si so guys spera io rispondo ja vi mussten leida leute mit dem ja leider di spiegel con la mia informazione è un'altra cosa che non si sovano è un'altra cosa che non si sovano è un'altra cosa che si sovano ok ragazzi il servo di Splatoon è sotto quindi ho scoperto il live stream qui il servo è sotto ok grazie per la info Pedro Ok, ragazzi, il servitore è... Perchè del posto, né, Snipe? Non per il personale. Lo scopriamo solo le persone che magari una volta o 4 giorni non sono online o che non siamo più presenti. E' un po' di nuovo. Sì, poi... Save the Queen! Sì, così, mettiamo il stream qui, visto che sono cagliati i server. E povero sacco di merda che oggi è il suo compleanno e li cadono i server nel giorno del compleanno. Quindi sacco di merda, questa scorreggia... Sono mondiali! E' per te, eh? Non l'hai già di verda. Questa scorreggia è per il sacco di merda. Ehi, Jeffrey! Il servitore è fuori. Sì, ho cercare il stream, ragazzi. Siamo fermi il stream, ragazzi. Siamo fermi il stream e... 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 Non c'è nessuno No, non stanno facendo un mantenimento o cose di quelle, no? Eh, non puoi d'assarlo No, no, non puoi d'assarlo, scoccia ora In serio Se erro la live e insendo otra vez alla mejor e ya sta Non puoi d'assarlo lo che tu dices, crema Io lo entenderai Questione larga di copyright In un secondo, eh? No Ovviamente il server è ancora giù Torni, no? Eh? Torni, no? Voglio soltare tutti bene, sì voglio fare l'ultima partita Ovvio Ovvio Mi amok È un ritmo tropical Solo quando se cae Sì, abbiamo tornato Sì, eh? No, eh? Chico Fare l'ultima partita e a dormire Perché Ora parecì che sì Sembra di sì, raga Sembra Di sì Andiamo a vedere Cercando una battaglia Sto male Quanto tempo è? Quanto tempo è che siamo in live? Quanto tempo è che siamo in live? Quasi sono Sì 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 La gente non può sapere che ci existiamo Sì 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 Guarda, già per vedere i numeri che stiamo facendo Hai capito? Sì Ci mette tempo Noi ci abbiamo messo poco Perché giochiamo con tutti E giochiamo con Sì No Io sono normale Non sono simpatico Potrei fare ancora più il coglione Solo che se mi butto a fare il coglione Credimi Poi nessuno mi prende Neanche un po' seriamente Perché dicono Ah, scherzi troppo Però io nella vita Normale Sono Cioè Chi mi conosce Diciamo che Conosce le mie mille sfaccettature Tibone mi conosce bene Diciamo È stato il secondo iscritto al canale Ed è ancora qua Sì Sempre con il nome Igodi Perché i italiani si pongono il nome Igodi E non lo deixano I spagnoli Sono un pochino come la paella No? Quindi nella paella tu puoi incontrare un gamberone Una seppia No? Tutto questo E quindi uno cambia I spagnoli Dice no Io non mi gusta Non tutto solo il spagnolo Ma lo sigo di spagnolo Che abbiamo Sì Molto sì Parese che L'edasco Sei rigo di Non lo sai Perché uno non cambia il nome Cioè Io la ultima cosa che ho fatto Nel In 16 anni Di juego Online Nunca hai cambiato il mio nome Tu Ficcate solo in questo Questo sono lo sigo di vero Guarda me Dopo non giochi rovelli No Come faccio giocare rovelli Dobbiamo andare Snipe Ich glaube Niche Troppo tardi È È Leider Zu spät Schon con permesso di miei padri io lo sarei un 8 abbiamo in generale di muchos che io lo trattengo a chi con la forza dico tiene che essere un igodi di Danimon che abbiamo fatto un video invece noi dove abbiamo fatto 5000 visualizzazioni con 8 expansion senza il permesso di miei padri Limon, noi abbiamo comprato l'expansione proprio nel momento in cui è arrivato in cui è stata disponibile e abbiamo fatto un video che ha arrivato a 5000 visualizzazioni guarda Frank io ancora non ho iniziato ne a fare pubblicità del canale ne niente e ti dico che come hai visto Vian è venuto a giocare già una volta è entrato proprio in stanza con noi e io non ho giocato per tanto tempo per far giocare gli utenti tra le altre cose c'è da dire perciò io ti dico guarda guarda l'ho vestito da Vian che bello che è daki daki e chi è che ha detto se conosco lo youtuber a me sei alexito no 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 espera igual mi equivoco no guarda in Italia non è che è che mi ha matato che è che mi ha matato tantissimi italiani comunque sì sì e stanno crescendo ogni volta di più sì e abbiamo anche un voto di gente soprattutto italiani che sono proprio arrivati nel stream per sapere se gli poteva piacere Splatoon più che altre nazioni direi sì e cos'è che volevo dire aspetta ma Frank sei iscritto o fa a discord oh la oh ma Frank tu ti sei iscritto a discord ci sei? o ci sei che si viene su discord il limone sabro il limone come l'ha matato il tio il limone qui 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 da qui qui da qui qui da qui ui 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 limone a veces paso por delante de un sitio che si chiama el sabroson y me viene sa la cabeza no e scriviti a discord va così almeno ti vedi ti vedi un po' di cose rimane aggiornato con noi con tutto no? e visto che le notifiche non arrivano sempre e lì lo annunciamo quasi ogni volta perciò tu ci unisci a discord noi lì ci siamo siamo più di cento persone anche su discord guys our server discord quante persone sono? 100 people 100 people oh yeah yeah è vero io non ci non mi sono fissata tanto su quello è bello minchia c'è un discord che fa paura già cento persone ci sono cercherò il prima possibile ce l'hai disponibile per cellulare sia che per pc per pc per ovunque i'm fucking crazy con il pennello hai solo un sette si ma perché ora stavo quando young hero young hero hey young hero adesso si colletterà squint 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 bang 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 young hero chicos questo è uno starnuto no non lo hago no yeah no non lo hago no non 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 sono il doctor grower e solo uno youtubero no non 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 VAMOS! Yeah! Ding! 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 Oh! Thank you! Thank you! They saved me! Perfetto! Perfetto! Se non si unirà nella vita! No, ma è la ultima! Sergio, è la ultima! Voglio cercare lo stream in pochi minuti! Eh si, Fran, mi sa che sei l'ultima! Si vede che è l'ultima! Si, nella ultima vale tutto! Nooo, Ducky! I will close the channel! Third boy? Eh? Ducky again! In che forte Ducky eh? Si, si! Strong Ducky, strong! Strong Ducky, strong! Eh, io ho paura di fare squid bags in partito online perché la Nintendo bada la gente per antisportiva! La Nintendo? No, la Nintendo! Io so che ti possono... Però hanno detto che sono stronzate! Frank, ti salvo con questa risposta! Hanno detto che sono tutte minchiate! Squid bagga quando vuoi! Un igo di vero! Squid bagga più che può! Così, vedi, vai qua e fai così! No, puoi fare cosa vuoi! E' importante che ammazzi se sei un igo di! Il giorno di domani! Che non fuggi! E' meglio morire che fuggire! Un vero igo di non va mai indietro! Tranne che per ricaricare! Da wae! Noi hanno da wae! Ma io penso che quelli che bannano sono i... Oddio! Sono i clan che hanno proprio proibito Squid baggare tra di loro! Però noi a volte giochiamo molto in serio quando Squid bagga non lo accettiamo per niente! Una cosa è! Squid baggare su uno splat e un'altra cosa è passarti! Tutta la partita sui baggando! Questa è già un'altra storia! Ok, Sergio... Dì, Sergio... Lo ho 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 ho... Io ho 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 ho... Come... Come... Protecciun! Si, perché se no lo posso giocher! Tutto me... Me machacano! il stream si chiama ora grazie per giocare con noi grazie per supportare e vediamo domani ora ora un'ultima immagine di Splatoon e si e questo colore ma con questa no puoi se resbala mira questo che che ravo che tiene ora si può dire no ravo questo non lo muevi questo non lo muevi no un po' questo si questo lo puoi muovere questo è il calcio si muove alla è vero che lo llevaste a la porta e si infata si infata mira quanto si infata madre mia però come è possibile è un breve si va a infatare andà so chicos lo vedrai e nell'altro diretto si che stai occupato con lo s'examen lo s'è lo s'è lo s'examen stanno portando creo vosotros ora quindi continuate con forza con forza chicos quindi dai Ale va a serrare il doc serrerà lo stream ora ragazzi italiani 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 perché sei solo uno adesso abbiamo in un altro diretto si si è night ma questo è sempre qua anche se non gioca è qua e la schiena arriva questo è soprattutto l'angolo degli igodi quasi sempre ci sono igodi sono qua si si igodi character ma beeeel ma beeeel see you tomorrow da chi see you tomorrow si frank si oh ciao frank ti mando un abbraccio un bacio ci vediamo domani see you tomorrow guys all of you yeah from me also have a nice day or night eh si scusami sergio manana accuardo a tuo padre che ti ha che dessine algo però eh ah si vuoi a comprare algo visto che ti impoglio alla meccor vamos a comer un poio no che vuoi vedere hit slip eliminate un piri minchia un abbraccio buenas noches adios adios no 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 no